Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e oggi sono pronto a spiegarvi come installare e configurare immuni sul vostro smartphone, sia con Android che con iOS e quindi con un iPhone. Condividete questo video con coloro che potrebbero essere in difficoltà con un'operazione che in realtà è semplicissima. Cominciamo subito vedendo come si fa su un telefono Android. Molto semplice, dovete cercare questa icona, quella con il Play Store. Una volta aperta l'applicazione, andare nell'area della ricerca, digitare immuni, vedete io l'avevo già fatto ma lo rifaccio comunque per mostrarvi il risultato. Cliccate su immuni, andate sull'icona dell'app e cliccate un'altra volta e quindi scegliete installa. Ci vuole giusto qualche secondo per ottenere l'applicazione installata sul proprio telefono. Una volta completata l'operazione ci sarà la possibilità di aprire l'app, vi verranno mostrate alcune informazioni di base dell'applicazione Immuni e dovrete semplicemente arrivare fino al punto in cui comincia la configurazione. Bisogna dichiarare di avere 14 anni e di aver letto l'informativa sulla privacy, procedere e quindi registrare la propria regione di residenza e anche la propria città. Questo è un passaggio importante, dovete abilitare l'uso del sistema di contact tracing che c'è a bordo del telefono, schiacciate attiva e poi l'applicazione vi consiglia di avere una password sempre presente sul telefono. Non vale solo per Immuni ma per qualunque applicazione voi usiate. Altro elemento importante, Immuni, via sms oppure via email. Le notifiche arrivano solo ed esclusivamente attraverso l'app Immuni. Il gioco è fatto, siete pronti, il servizio è attivo e insomma è dato una mano alla comunità per tracciare gli eventuali rischi di contagio per il Covid-19. Avete visto dunque che il sistema è veramente semplice e immediato alla portata di tutti? Vediamo i passaggi necessari anche su un iPhone. Anche su iPhone la situazione è veramente semplicissima. Basta aprire l'App Store, andare nella parte di ricerca, selezionare Immuni. Vedete che trovate la stessa applicazione. Io qui l'avevo già scaricata, poi l'ho cancellata, quindi qui trovereste Ottieni nel caso invece l'applicazione non fosse ancora stata scaricata. Vedete, una volta che l'avete messa sul vostro telefono, anche in questo caso il pulsante apri. Le schermate sono le stesse che trovate anche su Android. Le dichiarazioni sono le stesse che trovate anche sui telefoni Android. Riparte dunque il principio di registrazione, prima della vostra regione e poi della vostra città. Anche in questo caso dovete autorizzare il sistema di esposizione dei contatti per il suo telefono. Nel caso di iPhone c'è un ulteriore permesso che è quello che viene dato all'applicazione per spedire notifiche. Questo è importante perché l'applicazione comunica proprio in questo modo. Viene raccomandato ancora una volta di controllare e di avere il telefono protetto da una password e di diffidare da qualunque informazione arrivi via sms, via telefono o via email che si spaccia per un'informazione di immuni. Anche in questo caso, vedete, la configurazione è completata e il servizio è attivo. Semplice, vero? Un'applicazione che non solo è semplice da installare ma tra l'altro anche semplice da usare e soprattutto preserva la nostra privacy. Non vengono registrati il nostro nome, il nostro cognome, la nostra email, il nostro numero di telefono. Non viene mai registrata la posizione. Tutti quelli che sono dati personali sono assolutamente al sicuro. Non c'è un solo motivo per non scaricare questa applicazione. E anche se qualcuno di voi dovesse avere il dubbio, sì ma tanto non serve a niente, insomma, metterla sul telefono non crea alcun danno e può aiutare la collettività. Mettiamo magari per un attimo da parte la negatività e proviamo a metterci a disposizione degli altri. Non ci costa niente ed è facile da fare. Non ci costa niente ed è facile da autoconfitto,